dunque rimessa per Cannavò e lascia l'incommenza al 22 poi Costantino prova a girarsi ci arriva il 22 la mette nell'angolino vantaggio del via grande 1 a 0 per Cannavò scambiano dialogano i due poi ancora il numero 11 che punta l'avversario si gira Costantino e segna il raddoppio del via grande 2 a 0 la giocata per un compagno poi si abbassa Costantino e si gira si porta il pallone sul destro prova a calciare da fuori prende solo l'esterno della rete Rivitera riceve il pallone lo controlla sul mancino torna da Cannavò spalla la porta prova a girarsi numero 11 alla palla sulle sinistro mette sul secondo palo con Tommaso d'Alessandris non trova il varco giusto il numero 7 allora il possesso di nuovo per via grande siamo già dalla parte opposta ritmi alti c'è Cannavò che apre il pallone poi destro palo alza il pallone uno stop di petto che non si concretizza Rivitera lascia scorrere la sfera in rimessa laterale poi dentro per Cannavò spalla la porta si appoggia un compagno destro palo per la chiusura del via grande ancora il Life Soccer Academy in maglia bianca con il tiro da fuori che trova l'angolino accorcia le distanze il Life Soccer Academy 2 a 1 da motta il pallone torna buono per Cannavò che si porta il pallone sul sinistro poi Costantino alto sopra la traversa palla deviata torna buona da Tassotti che si porta il pallone sul destro calcia Tassotti l'intervento di Lo Faro in due tempi stop alza la testa serve Di Mauro che si allarga prova a calciare Di Mauro ci mette i piedi forte e poi ancora la conclusione di nuovo forte a dire di no apre sulla sinistra di nuovo per motta con calma ci sono pochi spazi se li crea il via grande che prova a calciare sul secondo palo l'intervento sulla linea a togliere il 3 a 1 si muove riceve Cannavò c'è anche in lungolinea non sceglie questa soluzione allora si muove in croce dalla parte opposta poi una deviazione che non inganna forte devia in calcio d'angolo calcio d'angolo per via grande costantino in area di rigore si avvicina che si avvasta che riceve si appoggia poi ancora costantino non arriva su questo pallone apre su calista verticale che non arriva poi c'è del vecchio libero sulla destra prova a calciare l'angolino la chiusura e poi il pareggio del live soccer academy 2 a 2 ferlito di nuovo per spina poi motta in verticale si muove spina calcia palo e poi Cannavò mette sotto la traversa il gol del 3 a 2 va il capitano del live soccer che prova l'imbucata riaggancia il pallone costantino che va dentro da spina la mette nell'angolino e fa 4 a 2 c'è fuori calista alza lo scavetto verso il numero 8 un colpo di testa prova a giocare il portiere di movimento il live soccer stop di petto destro da fuori sfiora l'incrocio tassotti apre per mazzucconi cerca un colpo di tacco era d'alessandris poi l'uscita valanga delle portiere la porta è vuota costantino la mette nell'angolino e fa 5 a 2 allunga via grande e se ne va ma non c'è più tempo triplice fischio termina con la vittoria del via grande che vince per 5 a 2 su live soccer academy a me a me